Erano partiti dall'Afghanistan con mezzi di fortuna e hanno camminato anche per alcuni tratti a piedi fino a raggiungere il confine tra Serbia e Croazia, dove qualcuno li ha aiutati a salire su un container parcheggiato in un'area di sosta, mentre il conducente era a pranzo. È il racconto dei quattro giovani stranieri che questa mattina sono stati sorpresi a bordo di un camion entrato nei magazzini della logistica piacentina per scaricare la merce. L'autista bulgaro avrebbe sentito rumori sospetti provenire dal container e quando lo ha aperto ha scoperto la presenza dei ragazzi stremmati dal viaggio. Sul posto era presente anche l'agente privato di Metronotte, che ha chiamato le forze dell'ordine e i sanitari del 118. I ragazzi che non parlano italiano e non hanno documenti stanno bene, sono stati condotti alla caserma dei carabinieri dove hanno ricevuto cibo e acqua. Un interprete ha ascoltato e tradotto il loro racconto. Due di loro sono risultati minorenni e sono stati affidati ai servizi sociali. Gli altri due sono in attesa del responso della questura.